Purtroppo il parcheggio è una carenza che ormai è da diversi anni che c'è e purtroppo nei quartieri ci sono diverse attività commerciali, c'è il centro commerciale, c'è una scuola superiore, istituto tecnico commerciale, una scuola elementare, due asili, lo stadio qui a poca distanza, l'ospedale, la chiesa e quindi quando c'è al palazzetto dello sport qualche manifestazione diventa una situazione ingestibile, parcheggi selvaggi dappertutto, sui prati, nella rotatoria diventa una cosa veramente, anche per la città un biglietto da visita è veramente deprimente, vedere la gente che viene da fuori e venire a fare, trovare questa situazione, noi siamo direttamente interessati perché abbiamo il supermercato ma da cittadino veramente è una cosa che fa male al cuore vedere una situazione così difficile. Che cosa chiede l'amministrazione comunale? Noi abbiamo avuto degli incontri con un paio di sindaci, quello attuale, anche quello precedente praticamente di fare dei nuovi posti macchina, di allargare i parcheggi che ci sono qui nelle vicinanze del centro commerciale, del palazzetto dello sport, cioè ci hanno sempre risposto, bisogna fare una variante ma io non penso che sia così complicato fare una variante in una situazione che effettivamente necessita di questa variante, insomma i parcheggi sono assolutamente necessari.